Sira.artaabruzzo.it, questo l'indirizzo internet del nuovo portale sulla qualità dell'aria in regione Abruzzo. Il sito consentirà di superare tutte quelle problematiche legate alla difficoltà di accesso ai dati di rilevamento delle centraline gestite dall'Arta su tutto il territorio regionale. Sia da PC che da smartphone è possibile accedere alla rete regionale di rilevazione della qualità dell'aria con 16 centraline posizionate in tre zone. L'agglomerato urbano Pescara-Chieti, l'area a maggiore pressione antropica, cioè l'Aquila, Terra, Mortone e l'area industriale della Val di Sangro, è una zona a minore pressione antropica, lì dove non esistono grandi aziende e grandi centri abitati, sostanzialmente aree montane come Castel di Sangro e San Teofemia e Maiella. L'agglomerato urbano Chieti-Pescara, confermano i dati del 2018 e i primi del 2019, è quello con una maggiore concentrazione di inquinamento dell'aria, classificato come scadente. Ma la media del 2018 per il PM10, ad esempio, di 26 microgrammi al metro cubo, resta ben al di sotto della soglia di guardia fissata dalla legge in 40 microgrammi. Prendendo in considerazione il parametro PM10, diciamo che sia come numero di superamenti annuali di media giornaliera che come media annua non ci sono stati sforamenti, quindi superamenti dei limiti di legge. Però ovviamente dai grafici e dai dati che abbiamo rilevato si evidenzia un maggiore impatto di inquinanti atmosferici nell'area metropolitana Pescara-Chieti. Gli inquinanti che monitoriamo sono gli inquinanti classici previsti per legge, PM10, PM2,5, ozono, monossidio di carbonio, SO2, ossidi di azoto. Dall'esame di questi inquinanti ovviamente hanno tutti origine diversa. Il PM10 per esempio può avere sia origini naturali che origini antropiche. Quindi diciamo traffico, riscaldamento, questi sono i fattori che influenzano di più? Le classiche origini soprattutto dell'area metropolitana derivano sicuramente da traffico autoveicolare, da riscaldamento e ovviamente anche i fattori climatici giocano un ruolo importante nell'accumulo della concentrazione di inquinanti. Sempre nel 2018 gli sforamenti a Pescara ad esempio sono stati appena sotto la soglia d'allarme di 35, ma, dicono i tecnici di Arta, il discorso qualità dell'area non può essere affrontato sulla singola centralina piuttosto nel complesso dell'intero sistema dell'area metropolitana Chieti-Pescara. C'è da precisare che il numero di superamenti va calcolato sulla base di ogni centralina, quindi non si sommano i numeri di superamenti per l'intera area. Ovviamente nel 2019 sono dei primi dati, quindi non possiamo dare dei giudizi, ancora presto per dare dei giudizi, Grazie a tutti.